Elfo vuole dire essenziale, ludico, fatidico, osé, quindi mi piace pensare che sia essenziale, che sia necessario, che sia ludico dove si gioca, joué vuol dire recitare e osé vuole dire che faccia vedere anche le nude verità degli attori, dei testi, quindi sperimentale, avanguardia, come lo si può descrivere? Entrando c'è una galleria, l'unica che c'è, le altre non ci sono, c'è un grande ato, ci sono persone di marmo, no, c'è marmo che le persone calpestano e c'è un trisale, quindi saporito in questo senso, cibo per la mente nelle sale e cibo al piano terra per chi vuole pensare allo stomaco, ma siccome qua non si parla alla pancia, ma si parla alla testa, direi che uno dei teatri che portano meglio i dieci anni, ancora un bambino, lo definirei un bambino prodigio, ma non è alle elementari, come ripeto è alle materiali essenziali, alle facoltà universitarie più importanti, quelle che parlano della materia grigia. All'elfo auguro di costruire una platea a castello, come dico sempre da quando sono venuto fino a dieci anni a questa parte, mi piacerebbe che la gente non andasse più via, auguro che la gente si fissasse su questi posti e lasciasse entrare altra gente però senza liberare i posti, ma gli saltasse sopra le spalle, perché avere la platea a castello significa, e mi piacerebbe che fosse il primo teatro in Italia a farlo, significa poter sentire il peso di una persona sulle proprie spalle, sentire questo peso ha un significato doppio e triplo, non è solo una questione di pubblico ma di privato e mi piacerebbe che tatuasse gli applausi nell'anima della gente.